Corso Acqui di Alessandria è alla ribalta con una manifestazione promossa dall'Associazione Attività e Commercio in Corso Acqui in sinergia con numerosi partner e associazioni. Un nome, un programma e che programma? L'iniziativa dei prossimi 5, 6 e 7 aprile al quartiere Cristo di Alessandria riassume tutto lo spirito di un mondo che sa fare rete. Corso Acqui alla ribalta è l'espressione del già consolidato modo di lavorare e vivere nel rione più popoloso della città dove i commercianti da anni fanno squadra con le associazioni di volontariato, con le parrocchie e con l'amministrazione comunale che dopo il recente successo del carnevale ora plaude un progetto studiato nei minimi particolari da mesi all'insegna di una via, Corso Acqui e l'insieme del territorio del quartiere Cristo di cui è l'asse centrale che si presenta alla popolazione come un polo commerciale naturale. Volevo ringraziare voi organi di stampa, l'amministrazione, gli sponsor, tutti i commercianti e le attività di Corso Acqui ricordando che ogni volta che una persona viene a visitarci nei nostri negozi per comprare un gelato, comprare un panino, aiuta la nostra via a essere più bella, accende una luce, innaffia una rosa, pulisce la strada. Adesso con l'accordo col CISAC addirittura noi riusciamo ad aiutare anche le persone sole e le famiglie in difficoltà. La festa prenderà il via venerdì 5 aprile dalle 19 con l'apertura dello street food, oltre 300 stand di predibatezze italiane e internazionali e tanta musica. La manifestazione, che coprirà un'area di due chilometri da via Carlo Alberto a Corso Acqui, entrerà poi nel vivo il 6 e il 7 aprile. 200 gli stand espositivi, 60 i punti di animazione, negozi aperti, mostre, un concorso canino e una pedalata. Questo e molto altro è nel cartellone degli appuntamenti di una due giorni che illuminerà tutto il quartiere e avrà la sua scintillante stella in Stefano Venneri, brillante comunicatore e speaker d'eccellenza. Alla base delle diverse riuscite fiere e feste che in questi anni il Cristo ha proposto all'attenzione di tutti gli alessandrini e non solo, ha dichiarato il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, vi è la caparbietà, la determinazione, il fattivo coinvolgimento e lo spirito di squadra di questi commercianti.